Ricominciamo da noi, non abbiamo bisogno di niente che venga dall'esterno. Tutto ciò che arriverà dovrà diventare semplicemente un volano per ricominciare a crescere. Ora cambiare si può. Con questo slogan la consigliera comunale a Fano ed ex candidata a sindaco Lucia Tarsi ha presentato la sua candidatura al Consiglio regionale delle Marche nella lista Civitas Civici a sostegno di Francesco Acquaroli. Sulla terrazza panoramica dell'hotel Astoria, Lido di Fano ha presentato i componenti della lista ed esposto i temi sui quali si incentrerà la sua campagna elettorale. Tra i pilastri la difesa dell'ospedale Santa Croce, una battaglia iniziata circa 15 anni fa con Giancarlo Danna e proseguita prima con il comitato e poi con la lista Fano-Città Ideale. In difesa dell'ospedale Santa Croce e contro l'unificazione in un'unica struttura e contro una sanità privata che viene semplicemente a spogliare la sanità pubblica, quindi non viene ad aggiungersi ma viene a depredare. Per Lucia Tarsi è necessaria una rete di ospedali sul territorio, vicine, cittadini e con servizi di qualità. Toccato in conferenza anche il tema delle infrastrutture strettamente collegato ai settori del turismo e dell'economia, dal porto all'aeroporto, dalla Fano Grosseto alla ferrovia turistica verso Urbino. La legge dello Stato del 2017 che è stata presentata dal PD e in maniera assolutamente schizofrenica il PD locale invece la osteggia, la ostaggia, la ostacola. Ricordiamoci che è vero che ora rinascerebbe una ferrovia turistica, ma questo sarebbe solo il primo passo per arrivare ad una metropolitana di superficie che collegherà Fano a Urbino con tutti i centri della vallata e che diventerà una risorsa incomparabile sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista ambientale sicuramente. Nel programma elettorale rientrano anche i settori del sociale e della cultura. Non solo è un motivo di crescita personale, ma deve anche diventare un motivo di crescita economica perché ne abbiamo tutte le possibilità, abbiamo veramente un patrimonio e una risorsa incomparabile. La cultura della disabilità, la cultura della differenza, la cultura del sociale è qualcosa che deve entrare nel nostro modo di pensare. Quindi inclusione non può essere solo una parola. La persona al centro non può essere solo uno slogan che i politici usano nel momento in cui devono fare campagna elettorale. Noi vogliamo riportare le persone al centro, cioè tutte le persone che hanno una fragilità, una difficoltà, una problematicità. Siamo arrivati al momento in cui possiamo realmente cambiare.